Ultima settimana di agosto all'insegna del sole e del caldo sulla riviera adriatica, dove le temperature arriveranno fino a 37 gradi. Si annuncia così pienamente estiva l'ultima settimana agostana, dominata dall'alta pressione e dalla persistenza di condizioni di sereno e clima ancora piuttosto caldo. In tutta la penisola si registreranno aumenti di temperatura ed il sole la farà da padrone, dopo un agosto non proprio generoso da un punto di vista meteo. Il fenomeno dovuto alla combinazione di temperature elevate associate ad alti tassi di umidità può avere conseguenze sulla salute dei soggetti più esposti, bambini, anziani, cardiopatici e soggetti affetti da malattie respiratorie. Ma cosa ne pensano e come fanno gli anziani a sopportare questa oramai ultima ondata di calore? Si rivolte al mondo. Penso che la stagione non è più come una volta, ma è troppo caldo. Qua si sta bene, sotto i stabineti non si capisce tanto questo caldo perché ti sembra quella bellarietta. Bene, bene. Beh, sembra un po' assurdo. Oddio, non è che è proprio assurdo, assurdo, è una cosa di mezzo. Speriamo bene che veniva un po' di pioggia. Il caldo torrido proseguirà fino a sabato, visto che già dalle prime ore di domenica si verificheranno i primi cali di temperatura. Quel che è certo è che queste condizioni climatiche renderanno felici quanti hanno scelto proprio la fine di agosto per qualche giorno di vacanza.